Voglio parlarvi del regolamento che abbiamo approvato ieri in Commissione Ambiente sulle emissioni e sui consumi di carburanti dei mezzi pesanti. Sapete voi quanto inquina un camion? I camion producono circa il 25% delle emissioni di CO2 dei trasporti su strada, 5% delle emissioni totali. Ad oggi manca un sistema di informazione sia sui consumi di carburanti che sulle emissioni e sulle emissioni. Questo comporta innanzitutto una mancanza di concorrenza vera fra i costruttori, poi l'impossibilità di scegliere e di acquistare i mezzi più puliti e un consumo maggiore e una maggior spesa di fatto sul carburante. L'obiettivo è la riduzione dei gas a effetto serra nei trasporti di almeno il 60% nel 2050. Con questo nuovo regolamento introduciamo una maggiore trasparenza aumentando i dati pubblici sulle emissioni e sui consumi, test su strada in condizioni reali di guida, chi inquina paga. Sono previste sanzioni per chi comunica dati sbagliati. Per tutti noi aria più pulita e un ambiente migliore. Grazie. 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 Grazie.